La sovrintendenza ci ha risposto di questo tipo di cui non possiamo solo essere contenti e felici anche per la celerità e ci comunica che dopo quattro anni finalmente questi pezzi faranno parte di una mostra itinerante che toccherà un po' tutti i comuni per i quali i pezzi stessi sono stati rinvenuti. Noi ci stiamo attivando affinché vediamo se è possibile all'interno di questa mostra fare in modo che Santo Stefano abbia i suoi pezzi per un periodo che sia molto prolungato alla fine perché è interessante per noi che avendo un antiquarium comunque della sovrintendenza dove la sovrintendenza allora ci diede questa opportunità lo arricchiamo e lo permettiamo alla gente di poterne godere sempre più nel tempo altrimenti non ha senso l'antiquarium che rimanga così com'è e basta. Abbiamo la materia prima e il logo che sono i reperti, abbiamo i palazzi che li possono ospitare quindi con un minimo di progettualità e non tantissimi soldi si può creare uno sviluppo turistico, culturale e archeologico che ha grande interesse soprattutto in persone che sono disponibili a spendere e a viaggiare quindi dobbiamo investire su questo e mi auguro anche la regione siciliana metta dei soldi per implementare gli scavi perché non possiamo avere sovrintendenze che gestiscono carte e pezzi per la stragrande maggior parte ma dobbiamo avere sovrintendenze che invitano nuovamente a scavare, che scavano con questi progetti, con questi candieri per far trovare nuovi siti per arricchire il patrimonio siciliano, culturale e archeologico che è molto importante.